benvenuti in un nuovo video e benvenuti nell'appuntamento mensile con De Gustavox forse questa è una delle prime volte che è arrivato molto presto perché comunque oggi è 17 sì, solitamente arriva sempre intorno al 19 è sembrato tipo un'eternità ma perché lo sappiamo un po' tutti che il gennaio è sempre lunghissimo comunque io volevo dire che come sempre, ve lo ripeterò sempre in ogni video, in ogni challenge speriamo che riusciamo questo mese a farla io non collaboro con De Gustavox, però giù nell'info box troverete un link dal momento in cui voi cliccate su questo link e acquistate e invece di pagare la vostra prima De Gustavox 16€ la pagherete 10€ compreso di spese di spedizioni a me è arrivato concorriere battolino ma penso un po' a tutti sì, sicuramente e un'altra cosa ci vengo a dirvi, nel momento in cui vi acquistate a me mi accreditano 50 punti ma dal momento in cui voi acquistate succederà la stessa cosa anche a voi De Gustavox poi vi darò il link che vi manderà De Gustavox con i vostri amici e quindi vi ricevere i 50 punti è aperto già? no, 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 ce ne sono tante ho già rispettato tutte le costelline ce ne sono tante, quindi non è mai avanti ok, non guardare perché qua c'è uno spoilerone Guarda questo macchio Casa della piada Fammi coprire qua Perché io con la cosa dell'occhio Casa della piada La sfogliata con olio extravergine d'oliva Noi abbiamo provato la traversione che non mi ricordo Sempre della stessa linea Ma sempre della stessa linea Ma anche le piadatine No mi sembra di no Lo sai o si Comunque con farina tipo 1 Solo ingredienti naturali senza conservanti Guardate che queste piadine Sono veramente La fine del mondo Mi sono piaciute molto Scadono a marzo E' bella No è veramente un macchio Che mancava a buscare E vai Queste mi sono d'aspetto Se mi sbaglio Queste ti sei scolerata No io queste si Però no se mi sbaglio Perché quando mensilmente vi arriva la degusta In questa box e poi nell'area personale Compilate il questionario Vi fa uno spoiler Nel prossimo mese Veramente Sì e se non erro era proprio questo Allora Riso scotti Risette venere Con riso venere Integrale e mais Senza glutine Fonte di fibre Fonte di fosforo e magnesio Questa è la cosa che le dobbiamo fare pure Aspetta voglio mantenere Chissà se si vede Fai vedere così Queste tostate Con un po' di sale Un po' di olio Speck nero Adoro Buone buone Se vuole Comunque è bella piena Mmm Gli oggi forse Gli oggi Gli oggi Olio di agrumi Adoro Quindi abbiamo detto Con tè verde O con olio di agrumi Questa è buona Io questa me l'aspetto Dico Spero di quel bel limone Sì A me queste cose Saprano sempre molto Non mi stavano Lo sai Ah Sta scritto qua Olio essenziale di citronella E limone Con il tè verde Senza E un tocco di zenzero Accendente Ok Con noi di questa box Accendente sempre il sorriso Un po' si sente Dimola Dimola Che scoglio Tasca La vedo bella piena Lo sai Farina Che cos'è La vassa Il tè E il tè E il caffè Organic Ground Coffee 100% arabica Abbe penso sia Il caffè Sì Caffè Macinato Biologico Torrefatto Bella la confezione Siamo pieni di caffè Perché noi certamente Utilizziamo le cialde Ma mamma adesso Le fa la moca Semplicissimi Midori A miele Con farina Di riso Stavo dicendo Questi domani Li proviamo Novi fa la challenge Novità Mi spira No No Dori ha fatto Tanti 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 Prodotti Nell'ultimo periodo No dai Per adesso Ho già Con le piadine Mi puoi giocare Sì Aspetta Sì Ho preso tu Spero non sia già finita Mi sarei aspettata un'altra cosa però Cosa? Quelli al formaggio Che sono riusciti Che ti hanno segnalato Lo hacker E pure questa è una novità Perché gira Napolitan Si chiama Una cosa che Però è la penella nocciola Sì sì Però ha doppi A tre o quattro strade No ok Quadratini Napolitaner Napolitaner Lo hacker Che bontà Ecco Questa Si è spolerata Guarda la posizione Girella Motta Antice di cacao Godimento totale Punto Ok Eee Mezzo cioccolato fondente Aspetta Cacao Cacao Eccole qua Sì Quelle là Tutti di bosco Brava Eh tu le provavamo Non mangio Non mangio Non mangio A parte non sono fatta Di girella Girella Io Ma io penso Siamo un di quell'ultimo L'avete un po' critica Questa challenge Che cos'è Uuuuh Novi Crema novi Crema da spalmare Alle nocciole E al cacao Wow Senza grassi Diversi Da quelli per natura Contenuti Nel cacao Nelle nocciole Wow L'ho sempre venuta a provare 45% di nocciole Non so se fai vedere Bella Senta Sembra tipo uno yogurt Pensavo fosse tipo yogurt Ho detto Non è salvo Sì Giustamente Della Gentilini Ci sta facendo provare Un po' di tutto Gentilini In fette biscottate Classiche Da sempre Senza olio di palmo Grano 100% Buonissimo Pure i biscotti Erano molto Pure Infatti L'abbiamo Reacquistati Per fare Cesti di Natale Good for you Frittella E' un mix Energia Fonte di Rave Mix di semi Frutta secca E disidratata Sono le nocciole E' un mix Le progne essiccate Mix di semi Frutta secca Disidratata Eccolo qua Ci sono Aspetta Prendiamo pure Dal conquilino Ce ne sono due Vai Prego No vai Adesso Fiii Da La Tutti Erano buonissimi Infatti sono contentissima Adoro Biscoffi C'è voglia di fare colazione Vabbè Le sui colazioni Sono pieni Va bene Sì Queste le avevano già provate Potevano mandare la crema Però Che la volevamo provare Prego Però sono quantissimi Lascialo al col latte Il tuo essere Ebrie Questo da mettere nel latte Mette 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 Ma io vedo Senti due Bussi Attenta 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 Piscano Ace plus Mela Ti è andata bene Non vale Achillea Da sempre Presenti In di questa box Casino Alla Come è Bello Cucu Dai Però Molto ricca A me è piaciuta Eh Guaio Indirei Abbiamo Pazza Ovviamente Sempre pieno Di brochure Bio Organic C'erano C'erano varie Misce Ora Io Gt Questo pure Me lo Non Quanto c'è No ma ce ne sono Tanti Io non mi ricordo Legge Crema Novi Disponibile Nel maxi Formato Novi Sul sito Allora Siamo pronti Sì Prodotto del mese Crema Novi Ma forse hanno cambiato qualcosa Perché comunque da tanto tempo Che c'è Comunque Non lo so Va bene 3,95 Comunque costa Allora Succo di frutta 1,99 Sì Ti potevo uscire Pure il succo di mela e curcuma No Meno male che non usci Perché a me già uscì 1,99 Girella 2,19 Poi A noi quali è uscito Tierra Sì Sì Quindi il nostro 3,19 Poi Casa della piada 1,99 Quindi sarebbero le piadine I biscotti d'orea 1,69 Le gallette riso scotti 1,99 Lotus 1,69 Frittella Quindi pacchettini piccolini 1 euro Il tè 4,50 Le fette biscottate Della gentilini 1,69 E lo hacker 2,50 Dai ci sta Mi è piaciuta tanto Iniziamo Quest'anno Col botto Veramente Col botto Anche perché C'è la cosa che Ti hanno dato la crema Però ti hanno dato anche le fette biscottate Così Così la provi Sì perché poi Il tè con i biscotti Lovus No no Molto ragionata Però forse questo mese È proprio più incentrato Sulla colazione Sì Ma io ci farò Tranquillamente Una 24 Come inizio Capì la colazione Ci sta Diciamo che No dai Cioè A pensare che a marzo Ci arriverà anche la gold box A marzo A marzo Perché sarà a marzo-ottubre Perché noi da pazze A novembre Già abbiamo pensato A marzo Vabbè Comunque si arriverà Ci sta Ok Noi speriamo che anche questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao